Ladies and gentlemen, quest'oggi voglio un tripudio di commenti positivi e di pollicioni in su Non sono da solo, non so se ve ne siete accorti, ma i ragazzi di Lenovo e di Nvidia mi hanno inviato questo gioiellino Il Lenovo Legion 5i, nuovo laptop, che è veramente una pompa a mano La scatola mi aveva illuso, è molto smart come computer, adesso andiamo a provarlo All'interno c'era ovviamente anche l'adattatore con l'alimentatore Come vedete io ho questo modello, ma nel link che trovate in descrizione ce ne sono tantissimi altri Con caratteristiche specifiche diverse Io penso lo utilizzerò molto spesso, più che altro per i miei viaggi Quest'anno vorrei andare al Dreamhack e oltre a dover portare un fisso per streamare direttamente da là Sempre se riusciamo a farlo, avrò bisogno di un portatile per l'albergo, quindi questo è perfetto Posso già dirvi feedback del touchpad, molto positivo Quelli che non ti danno risposta a me mi fanno proprio stare mai, dico la verità sono abituato al mouse, quindi top All'interno GPU Nvidia, velocissima e potentissima Serie 3000 che supporta Ray Tracing e DLSS Vi mostro alcuni esempi in game Come potete vedere a sinistra notate il nativo in 4k che è molto fluido ma c'è ancora qualche piccola pecca sui 40 fps Le performance di questa scheda video potete vedere raggiungono più dei 90 fps Ultra fluido in 4k quindi clamoroso Grazie mille ragazzi di Lenovo Nvidia per aver sponsorizzato questo video Vi ricordo che in descrizione c'è il link e adesso vogliamo nelle Bedwars a distruggere tutti Bene ragazzi qui Stepney bentornati nelle Bedwars di Minecraft Siamo su iPix, l'ho messo le duo Ciao fake water, ok Pensavo che avere un compagno su cui riporre parte della nostra fiducia potesse essere importante Vediamo come si comporta se decide subito di distruggere, di proteggere Va a fare un ponte, ha lasciato l'oro Diciamo che se la gioca per bene Prendo delle scesoie subito e proteggo io il letto ovviamente Se ci fanno un contropush almeno possiamo difenderci Sto arrivando, ti do una mano Rinforzo leggermente anche il tuo ponte Dai che questi li abbiano già devastati Dai così Mi sono lanciato nella sua base Vai Forza sull'acqua Victor Bolboa Victor Bolboa Ma ho rubato Aguil? No pesai Aguil Buono così Allora prendiamo subito dei potenziamenti Siamo andati subito così dritto Bellissimo Ok Continua lui eh Mi sparano, mi colpiscono C'è un tipo C'è un tipo Holy shit Questo qui era tornato in vita da dove? Sa che devo alzare l'audio di gioco? Un po' basso Sono contento vi siate divertiti tantissimo nel video con Tudor Oh Guardate qua A parte che se io ho un accetta non la uso sono pieno Letto dei gialli è andato Melchiorre Oh quanto male fa Quanto male fa C'è una spada di Iron Eo Non è un problema It's ok Nostra base come vedete Sono spawnate tantissime cose buone Adesso noi abbiamo il collegamento Quindi tiriamo dritto da loro Fermi però che il grigio qua Si sta svegliando Aiuto Amico Amico Meno male che è tornato Questo è morto Dobbiamo difenderci eh Con le unghie e con i denti Vai Quattro diamanti grandi Ok dobbiamo prendere subito Tipo la sharp No ce l'avevamo già Ok allora Reinforze d'armu Il maniac miner Mi serve dell'oro amico Devi difendere Ok Ce l'abbiamo Posso prendere l'armatura Meno male che è tornato Da soli non ce l'avremmo fatta eh Ve lo dico Sono sempre sincero con voi Oh ca... Questo non l'avrei voluto vedere Sono un co... Perché sono scarso È qua È qua Esplode è stupido No Impedisci No No Muoio Devo scappare Ha rotto il letto Ma sono vivo Sono vivo Non è più sicuro adesso Stare nella nostra base Vi torna Comunque c'è solamente un giallo Vivo Potrebbe farci un agguato pure lui Per quel che ne sappiamo Stiamo attenti Che i grigi sono Molto arrabbiati Molto arrabbiati Nostro compagno ancora vivo Però questa è un'ottima notizia Tireremo dritto Recopriremo altri diamanti Quaggiù E cercheremo di continuare A potenziarci Spero di riunirmi a lui Il prima possibile Perché se muore lui Ho paura Che finirà molto male Ok Hanno spaccato il letto Dei grigi Intanto Della serie Chi la fa L'aspetti Il bianco È qua E il giallo pure Ma il giallo non ci importa Ciao amico Ciao Siamo vivi Siamo vivi Siamo vivi Vinciamola Vinciamola Non so come possiamo fare Ma proviamo a vincerla Tieni Ti droppo tutto Se ti serve qualcosa Prendi tutto Io sono dalla tua parte Recupererei anche una palla di fuoco Che potrebbe servirci Ad uccidere definitivamente Il giallo Sfruttiamo questi collegamenti al centro In qualche modo Il giallo qua Ha corso ai ripari Ha recuperato un botto di smeraldi Ne è proprio ciucciati tutti Eccoli verdi Attento 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 Si vola Da soli Contro tutti Team grigio Dai Stefanino Dai Qua mi sembra fondamentale Dover raggiungere subito i diamanti Per prendere il vantaggio sul nostro avversario Che è il rosa Che adesso penserà Beh devo necessariamente andare a prendere i diamanti Ma vedrà che ci sono già stato io E che ho già intenzione di pusharlo Quindi desisterà suppongo O attaccherà direttamente la mia base Per questo prendiamo subito Reinforced armor Che ci piace Bella così Una spadina Piccone Questo Blocchi Let's go 32 sono tanti eh Non sembra Ma ci salveranno probabilmente Guardate Il rosa come previsto Sta andando al centro Io ho già fatto un piccolo collegamento Quindi Avrei poterlo raggiungere Piuttosto in fretta Sa che ha finito i blocchi Cos'è matto È matto raga È matto È matto un culo È matto in culo Non credo che si sia buttato di sotto Infatti adesso mi farà il collegamento Che ci sto eh Ci sto Non mi frega niente Prendo una mela d'oro Me la mangio al volo Adesso abbiamo anche una palla di fuoco Se riuscissi a farlo cadere nell'oblio Gli abbiamo spaccato il letto Lui adesso è costretto a tornare là Anche perché ha preso danno Sia dall'esplosione Sia un po' dalla caduta Noi risaliamo su Anzi col cavolo che saliamo su Guarda questi tre Belli giottini Stiamo bassi qui Vediamo se cade Se cade abbiamo vinto Sì Eccomi Lo mazzolo bene bene Andrò a morire in teoria Una spada potenziata Questo spacca questo Che spacca quello Ce ne andiamo Oh sta arrivando un altro Ma Che senso Questo non c'entra niente Ok Questo Per favore No Mi ha rubato tutti i diamanti Maledetto Mi ha rubato tutti i diamanti Però gli ho spaccato tutto l'altro Ok Calmi Calmi perché gli ho spaccato la roba Guarda 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 Porca miseria Abbiamo perso il letto raga Non ci posso creare Eccolo lì Lo sapevo Certo Un po' Ma cosa Ma non ho so neanche entrato Raggi vogliono veramente Farmi impazzire Mamma mia a volte trovo Dei personaggi comunque Veramente buffi Team blu Solo per voi Questa ragazzi Non possiamo perderla Tra l'altro ci hanno pure riconosciuto Quindi mo ci prenderanno di mira Ragazzi stiamo molto attenti Nobody touch Blu Hanno scritto Reportato Stepney Sicuramente Nel dubbio Non so se mi attaccheranno Suppongo di sì Questo direi di coprirlo A modino E tanto Cioè tanto Voglio farli proprio vomitare Quando arrivano qua Appena avrò l'oro Magari ci mettiamo anche Del legno Tutti questi extra materiali Teniamoli un attimo da parte Voglio fare collegamento Oh Diamantone Ecco dietro Spero che il rosso Desista dal prenderli Perché ormai ci sto andando io Ecco Spero che nessuno rompa a me Eh la base Vi prego Molto bene Mi prendo il diamantone Me ne torno indietro Così il rosso starà tranquillo Che non voglio attaccarlo Prenderà coraggio Andrà al centro E noi gli spaccheremo la base Solamente dopo però Con questi quattro Quindi cos'è che prendo Prendo sicuramente It's a trap E mine il fatigue Così non spaccano Voglio riuscire a sopravvivere Raga ve lo dico eh Prendi anche delle cesoie Farò di tutto per sopravvivere Anzi Ce la faremo Oh dodici Questi sono buonissimi Armatura per sempre Il verde è vivo E lo vedo anche molto coraggioso Direi di fermare questo entusiasmo Il prima possibile Il rosso aspettate che sta facendo Il collegamento al diamante Fermi 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 Non se l'aspetterà mai Che sono qua Eh già Eh che cosa devo fare Devo lasciarti sopravvivere Aia Ok morto Perlomeno questo l'ha perso Ci siamo presi un bel po' di roba eh Oltre al suo letto Non so se deciderà di attaccarmi ancora Spero per la sua vita di no Anche perché noi ci prendiamo Spada potenziata Mela d'oro E a questo punto l'armatura Mi vuole fregare diamantozze Oh Sta buildando per salire Mi sa che è caduto di sotto No No Mi ho messo paura ed è caduto raga Ehi là Questo è imprevisto Imprevistissimo Meno male L'abbiamo distrutto Meno male Anche perché adesso possiamo Contrattaccarlo subito Dopo aver mangiato questa mela d'oro E sapete che dopo andiamo dal verde Per forza Ma adesso andiamo da lui Che non credo se l'aspetti Ma lo distruggiamo Ok Vieni Vieni qui bello Distrutto Godo Rotto Vado Non so se uscirà subito A pusharmi Colo che mi aspetta E muore per favore Oh 10 di vita Mannaggia Eccolo Ah grande Ottima idea Ottima idea Ottima idea Oddio Si è isolato Si è isolato Vi ho regalato 3 diamanti però Questo errore è imperdonabile Stefano Ma cosa fai? No In che senso? Oh no Non ci posso credere C'è la trappola Non dovrebbe riuscire a romperlo Cosa? Ma gli accella Sono tierne di te Abbiamo vinto Let's go Let's go Let's go Quanto god Quanto god Si 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 Raga Questo qui Veramente Quando mi ha tirato dritto in base C'ho il cuore in gola Che bello Queste emozioni Mi piace un botto Allora Lobby Abbiamo detto La 11 Sono nel lobby Le 11 Ho scritto che ci sono Vediamo Eccolo E' un dio Esagerato Dai vado a fare una duo Che abbiamo vinto le solo Le duo è da tanto Che non le vinciamo Potevo farle anche con Luke Però Sono un pirla Ma si raga Ne voglio vincere due Per forza Negli ultimi episodi Non siamo riusciti a vincere Oggi si Con tanta fatica Come avete visto Perché sono tutti bravi Vediamo con chi siamo Fire Flades Ok Speriamo bene Abbiamo già un bel po' di materiali Non so Che cosa vorrà fare lui Ma io parto immediatamente Con la protezione Via Lui mi sa che sta andando Verso il centro Io allora vado verso La base dei questi accanto Dovrebbero essere i rosa No il mio compagno Ha appena caduto nel vuoto Anche i rosa Non è che abbia fatto Una bellissima fine In questo momento eh Desisto dall'andare Nella loro base Lo sa di sì Che scendo Prendo questi E me ne vado via Oh Ma sono caduti entrambi Oddio sono caduti entrambi Sono un coglione Sono un coglione Sono un coglione Non ho i materiali Non ho i materiali Lo buttate di sotto per forza Raga Non avevo materiali Per tornare indietro Spero che il mio compagno Torni presto in partita Perché Sulle ali dell'entusiasmo Insomma Dopo una vittoria Adesso Non rovinatemi subito tutto Vi prego Lo sa che mangio anche Nella loro sai Stanno inseguendo Ecco Se non si aspetterà mai Morto Questo qui si è buttato di sotto Ma siamo sicuri Che sia una buona idea Secondo me no Ma Sì Grande Grande Ma che vuol dire Che vuol dire Ha fatto un salto lunghissimo Per prendermi Devo difendere la base Suppongo no Ecco là Manco il tempo di arrivare Che se devo fare No Non morire Compagno Non morire Ok Dobbiamo andare Dobbiamo andare Dobbiamo andare Oh no Non abbiamo letto Dov'ado Dov'ado Eccomi Resisti Sir Resisti Sì Vabbè ma anche quelli Che non c'entrano niente Loser Loser È tutto ok Non rovineranno La mia felicità È una duo Le duo Hanno meno peso Vedete Infatti Non ci bloccano Neanche la win streak Andiamo L'ultima solo E concludiamo Questo video Team rosa So che possiamo Farcela ragazzi Quella del blu Comunque me l'avevo detto Me la sentivo Cioè Let's go Ho già preso gli strumenti Così non ci pensiamo più Guardate il bianco Ha preso di mira Invece la mia base Veramente pensavi di poterla attaccare Senza che facessi niente Per difendermi Sei impazzito Mettrai dover Spaccare sta roba Bello Considerando che ci sta pushando In modo piuttosto goliardico Non bene Credo che sia caduto nel vuoto Quanto si può godere In queste circostanze Io suppongo tanto Suppongo E supposta Tanto Distrutto Distrutto Dilaniato Anche tre diamantozzi Cosa vuoi fare di più Eh Cosa vuoi fare di più Eh Ti squaio Ti squaio Bello Ma in che modo Spero di averlo Beccato di sotto Ma in che senso raga Una spadadina di legno Fa quella roba Adesso spende le mie risorse Non è giusto Vabbè La cosa pericolosa È che lui adesso Non ha veramente niente da perdere Quindi non portiamo Gli altri materiali Stiamo buoni Non laggiare Sto arrivando per te E ti faccio male Ti devo squagliare Con due di vita L'unica cosa che posso fare adesso È pusharlo all'infinito Non ci posso credere Nell'unico momento In cui non ho preso materiali Mi tira la palla di fuoco Eh Non ci posso credere Se mi muori Ma cosa vuol dire Raga Oh Anche il rosso va Bene Godo Godo Allora il rosso se posso Lo dico Non posso però Bene È anche il che voglio Eh vabbè Il rosso È devastante Ma in che senso Oh Raga No 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 Cari amici Il video di oggi Termina qua Fidatevi È meglio così Prima che degeneri Grazie ancora Agli amici di Lenovo Ed NVIDIA per il laptop Legion 5i Che figata assurda Abbiamo portato a casa una vittoria Commentare e scrivete La campanellina Che dovrebbe essere Il mio duo Nelle Bedwars Fatemelo sapere nei commenti Scrivetevi al canale Nel prossimo video Adesso è tutto Buone Con questo almeno Scleriamo nelle Bedwars Anche in viaggio Scrivetevi al canale Scrivetevi al canale